Siamo qui con il mister della città di Acerra che oggi perde 4-2 però grazie alla vittoria all'andata passa il turno e vola in semifinare. Che partita ha visto da parte della sua squadra? Buonasera a tutti, è stata la partita, il primo tempo abbiamo giocato molto bene come avevo chiesto ai ragazzi, il secondo tempo ci siamo abbassati un po', ovviamente loro dovendo attaccare, dovendo fare qualche gol in più ovviamente ci hanno un po' schiacciato, questo è stato l'errore, però il primo tempo dobbiamo fare qualche gol in più e quindi era meglio così. Era partita molto bene la sua squadra, subito due goli neanche 10 minuti, poi si è abbassato per una scelta anche tattica, comunque consapevole che l'Epomeo doveva trovare gol. Sicuramente la partita era stata rieverata in un certo modo, poi avendo fatto anche due reti e quindi trovandoci sul passale dello 0-2, ovviamente ci siamo abbassati un po' in più per cercare di trovare qualche ripartenza. Sapevamo che loro comunque in casa era una squadra, una buonissima squadra, quindi diciamo ci siamo abbassati un pochettino volendo ripartire per fare gol. Le posso chiedere un commento sull'arbitro? L'arbitro purtroppo siamo in queste categorie come sbagliamo noi, possono sbagliare pure gli arbitri. Questo è un arbitro che comunque è un arbitro in categoria superiore, quindi tecnicamente non lo so, però comunque se sono stati fatti degli errori sono stati fatti in buona fede.